Benvenuti a tutti in questo nuovo gameplay, siamo di nuovo qui su Halo Combat Evolved Anniversary, finalmente, almeno continuiamo questo fantastico gioco. Avevo fatto l'ultima volta assalto alla sala di controllo, mi pare, quindi adesso ci toccherà 343 Guilty Spark. Questo c'è da dire che è un livello che quando lo giocai la prima volta, mi cagai in mano abbastanza, quindi procediamo e facciamolo in versione Anniversary. Grazie. Iniziamo così. Forse questo è uno dei livelli con il miglior rendimento per l'Anniversary, perché è davvero molto bello. Eccoli. Aia! Che cacchio! Andiamo a prenderci un medkit. Cioè, ho appena iniziato, già mi ammazzano con le granate. Che cazzo è? Mi ha visto? Beh, ora sì, perché l'ho mancato come una merda. Questo qua è uno dei passaggi più fighi che ci sia in tutto Halo. Cioè, tronco gigante. Però mi sparerà? Vediamo. Beh, adesso non più sicuramente. Lasciamoli andare via questi, dai. Entriamo, che qua sentivo spari umani. Sicuramente ci sarà qualcuno. E invece no. Ascensore? Oh no, 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 parte, parte, parte. Pensavo di doverlo chiamare. Uh, ok. L'ho preso al volo. Salve! Però c'è una festa qui. Che festa di merda, però. Ma che fastidio. I Jekyll con gli scudi. Danno proprio fastidio. Aia! Si sparano da soli. Pam! È un fottuto labirinto questo, poi. Ma cosa fate? Fate la guardia alla porticina? Non dovete disturbarvi? Eh, la madonna, che cazzo è successo? Gli risolviamo il problema? Va bene, dai. A posto. Mani, vedi. Non so le riso. Non so? Mani. Ce. Sì. No. Questa. Sì. Ok. Ok, apriamo questa porta. Ci provo io, signore, ma sembra che i Covenant l'abbiano chiusa davvero bene. Apri là lo stesso. Sì, signore. Ho un brutto presentimento. Ragazzo, tu hai sempre un brutto presentimento. Che ho vissato, sergente? Mi sentite? Che succede, soldato? Contatto! Contatti dappertutto, ma non sono Covenant! Ci fanno pezzi! No! No! Caporale, mi ricevi? Passo! Mendoza, datti una mossa! Vai dalla seconda squadra e scopri cosa sta succedendo! Ma... Non ho tempo per le chiacchiere, soldato! Ti ho dato un ordine! Sergente, ascolti! E questo cos'è? Da dove viene questa roba, Mendoza? È ovunque! Non... Di là! Guardate! Restate fermi! Restate fermi! Fateglielo a vedere! Sergente, siamo circondati! Accidenti, Jenkins! Spara! Ce ne sono troppi, sergente! Non pensarci, Marine! Torna qui, Marine! È un ordine! Oooooookay! Beh, almeno ci sono le munizioni, eh! C'è da dire! Siamo nella merda, ragazzo! La porta è bloccata! Come non si sa! Oddio! Eccoli! Madonna! Guarda, fanno proprio schifo i Flood! Ne avessi preso uno! Ecco, ora arrivano i cattivoni, proprio seri? Sì! Oh, 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 oh! Ah, ma che cazzo! Sono un pirla! Perché non rimbalzano sui vetri le granate? Cioè, questa qua è proprio una stronzata! Qua c'era un medkit! Ok! Avete rotto le palle, eh, voi, però! Oh, vai giù! Ora andiamo dalla porta, che si è aperta! Ah, no! Che questa qua era aperta, però non si può andare! Ah, devo passare di sotto per forza! Tanto loro si picchiano da soli, quindi... No problem! Oh, che cazzo! Bam! Che colpo! Eh, se mi prendono dalle spalle fa male, eh! Te! Ho presi! Dove adesso, però? Io arrivo da là? Di qua? È rosso! E quindi? Dai! Mi sono perso! Allora, qua c'è un grunt! Il grunt mi sa che lo fottiamo! Eh, no, no, c'è anche questo! Ok! Ah, di là, di là! Vedo delle scalette improvvisate! Eeeh, già! Che figo questo! Mi è sempre piaciuto! Non so cosa sia, ma... Figo! Ok, quando il flood incontra il chief col fucile a pompa... Il flood! È un flood morto! Vai così! Pam! Che bello! Dà una soddisfazione il fucile a pompa! In salto? In salto! Bisogna salire di nuovo di qua o...? Ah, sì! Guarda cosa c'è qua! Sono molto felice! Questo si disattiva mentre vado! Eeeh! Che pezzi in me! 60 colpi di fucile a pompa! Ma davvero era così? Boh! Ah! Buongiorno! Aia! A posto! A posto! Madonna, sto livello di un ansiogeno! Bam! Sbam! Sbam! E dietro di me? Ah, dietro di me ci sono questi! Eeeh, andati! Posso risolvere l'infezione a colpi di proiettili? In salto? Oh, l'ho preso! Poi non è morto, ma comunque l'ho preso! I precursori facevano cagare, eh, come strutture, però, eh! C'è da dire! Proviamo a prendere questa! Checkpoint completato, quindi... Mi sa che è giusto! Non disattivatemelo, non fate i bastardi! Oh, preso! Oh, preso! Eh, ok, ok, vi lancio due granate, va bene, dai! Oh, che cazzo è successo? Le granate lasciate lì per sbaglio! Per sbaglio, lo lasciano apposta, secondo me! Te! Stavolta ve le lancio così! Non è successo niente adesso! Si risale! Sì, sono io! Sei Claudio Bisio! Andiamo! Io correrei a Bombazza! Qua ci saranno flood proprio a tuono! Preso! Proprio ho buttato dentro la cartuccia e glielo ho sparato in faccia! Stanno arrivando da ogni dove! Eh, sì, infatti! Wow, che belle le esplosioni nell'acqua! C'è 343! Dai, dai, dai! Raccoglimi! Non dovrebbe raccogliermi 343! Benvenuti! Io sono il guardiano dell'installazione 04! Sono 343, il T-Spark! Qualcuno ha liberato il flood! Il mio compito è impedire che fuoriescano da qui! Ma chiedo la vostra collaborazione! Venite! Da questa parte! Dobbiamo prendere l'indice per poter attivare l'installazione! Ed eccoci qui, quindi nella biblioteca! Nel prossimo video vedremo come andrà a finire questo livello che è bello tosto e fa bestemmiare tantissimo! Alla prossima! Sono calmissimo!